buongiorno a tutti io sono il dottor max che vi parla della tanzania allora questo qui è un video per un aggiornamento veloce sulla situazione ci sono due aspetti di cui volevo parlare il primo è relativo all'evento che sto organizzando per la prossima settimana sabato 16 alle 15 a lucca e sarà un momento d'incontro nel quale parleremo del piano b per venire spostarsi anche temporaneamente in tanzania la consulenza oro un po di consulenza patrimoniale faremo anche una chiacchierata su quello che sta succedendo cercando di capire quello che saranno poi gli sviluppi futuri l'ingresso è gratuito organizzo tutto io poi rimarremo a cena verso le sette sette e mezzo rimarremo a cena per coloro che vengono da fuori c'è anche la possibilità di pernottare a lucca per chi vuole maggiori informazioni può contattare questo indirizzo di posta elettronica massimo michele guerrieri chiocciolaiaco.com e rimando il programma come ripeto l'ingresso è gratuito però bisogna riservare per partecipare all'incontro per quello che riguarda invece la programmazione ultimamente non ho caricato più video perché ho ottenuto uno strike da youtube il 17 di febbraio è entrata in vigore alla nuova normativa europea quindi bisogna stare molto attenti a quello che si carica quindi ho deciso di mantenere il canale di youtube come consulenza oro e di spostarmi poi su tutti gli altri interventi su rumbo quindi avrete le maggiori informazioni successivamente con link eccetera però sono presente ovviamente su telegram ormai da due anni il canale di consulenza oro è presente il sabato i miei interventi sono il sabato alle 9 per la destinazione tanzania il mercoledì alle 19 poi il lunedì con l'amico flavio intervengo o su fuori dal pentolone o su fuga dalle banche e quindi avete comunque la possibilità di diciamo di seguirmi per l'evento ricordo ancora che ci saranno sarà un po organizzata l'americana con una lotteria delle sorprese quindi dei premi quindi coloro che sono interessati anche a partecipare una cosa un po organizzata in maniera molto semplice però in maniera un po particolare mi possono contattare io sono comunque a disposizione anche per la normale consulenza mi potete contattare sempre tramite i riferimenti che trovate comunque anche attraverso i vari canali e sono a disposizione qualsiasi cosa possiate richiedere anche sul piano B sulla consulenza eccetera ritornerò io poi in tanzania il 20 sarò a disposizione va bene un saluto a tutti ciao a presto ciao